Buonasera a tutti, Adriano, trader indipendente, investitore, faccio parte di un gruppo un pochettino più ampio insieme a altri due trader, Marco e Claudio e oggi come al solito sono qui a commentare la seduta del mercato, il titolo lo avete letto ma oggi devo fare una premessa che è un pochettino lunga ma spero veramente con tutto il cuore che serva a qualcuno per orientarsi sui mercati non voglio essere quello che ha la soluzione in tasca ma vi riporto due episodi che mi sono successi proprio ieri e così magari qualcuno può trarre beneficio dalle mie parole ieri come al solito ho commentato la seduta, ho postato il video, in quel momento avevamo 1357 iscritti e dopo circa un'oretta così che il video era online, c'erano già le prime visualizzazioni mi cade l'occhio e vedo che da 1357 iscritti scendiamo di due unità da 1357 passiamo a 1355 e fino qui tutto normale, gente che va, gente che viene, normale amministrazione se non fosse che uno di questi due si prende anche la briga di scrivermi una mail dicendo che si è disiscritto dal canale McTrader perché io nel video di ieri ho detto che i mercati sarebbero anche potuti salire da sopra quota 32.500 punti vi avevo detto potrebbe fare anche un altro stappetto e stamattina lo avevo anche riportato sul canale Real Time a suo dire non potevo dire una cosa del genere perché i mercati ormai sono folli, stanno così tirando troppo la corda per cui vorrebbe dire prendere in giro le persone ora, a parte che oggi è successo esattamente quello che vi avevo detto ieri e per cui il mercato quello strappetto ancora verso l'alto l'ha fatto la cosa più così che mi lascia perplesso non so bene questa persona come sia qualificata penso che sia un neofita ma dopo questi episodi me ne capita un altro guardo a mia volta un video invece di un professionista che so essere un professionista perché anche lui come me lo dimostra tutti i giorni posta le sue analisi con cadenza quotidiana e tra l'altro lo trovo anche abbastanza preparato insomma almeno al pari di me però a un certo punto nel suo video dice sapete come la penso su questo mercato quanto sia irrazionale allora ha detto no, fermi tutti, c'è qualcosa che non va un professionista non può dirmi una frase del genere allora capisco tante persone che appunto posso prendere anche a male le mie parole perché un mercato, un professionista non mi può dire che è irrazionale il mercato semplicemente non risponde alle logiche delle masse questo sì, questo va detto il mercato dobbiamo dire che ha le proprie regole e non sono quelle della logica c'è la logica del mercato che è una cosa diversa allora la prima regola del mercato ma proprio la prima, la basilare che tutti dovremmo conoscere è che i mercati rispondono e riconoscono determinati livelli poi questi livelli come ci arrivate a individuarli sono fatti vostri io uso un'analisi tecnica mi confronto con le notizie insomma che escono tutti i giorni cerco di farmi il quadro della situazione per individuare dei livelli di supporto e di resistenza ma i livelli ci sono fuori da lì non si scappa secondariamente i mercati non sono mossi da retail inutile strapparsi i capelli perché il mercato sta salendo troppo o sta scendendo troppo i retail non muoveranno mai nulla i mercati sono mossi dai big, dalle banche, dai fondi e via dicendo che sfruttano sì il pensiero delle masse per poi spingerli nella direzione che vogliono terza regola del mercato il mercato non è mai uguale io sono sui mercati che ho detto da 14-15 anni e sono il bambino di questo gruppo perché gli altri due Marco e Claudio tradavano quando c'erano ancora le lire ma tutti noi concordiamo sul fatto che di anno in anno il mercato cambi cambiano le regole con cui si muovono e vi dicendo bisogna stare sul pezzo e cercare di inquadrare la situazione così seduta stante ma l'esperienza aiuta questo è vero ma anche con tanta esperienza il rischio a volte di sbagliare c'è e anche noi sbagliamo ovviamente per cui sono tante le regole poi la più banale ma vedo che in tanti ancora ci credono a queste cose non esiste un trucco o un segreto particolare per riuscire sul mercato che non sia quello della metodica di avere un metodo di avere costanza e vi dicendo quindi i trading system che hanno fatto guadagnare 55.000 euro e guarda caso ce le avevi nel cassetto oppure quello che puoi alzare 50-100 euro semplicemente con una media mobile sono tutte boiate ok questa è la premessa ora fatta la premessa e quindi prendetemi un po' come il dottore quando andate dal dottore non è che vi aspettate che il dottore vi così se fate qualcosa di sbagliato avete uno stile di vita sbagliato vi dia una pacca sulle spalle dire ma si dai poverino non sei solo che sbagli ci sono tanti come te no allora cerchiamo di ragionare di essere persone seri e con della testa non si può andare al dottore e dire fumo sono in sovrappeso non faccio attività motorie lei cosa mi consiglia cosa vuoi che ti consigli il dottore di smettere di fumare di metterti in riga chiudere il frigo non mangiare porcherie e fare un po' di attività fisica senza nemmeno prescriverti le medicine e tu cosa fai in tutta la risposta cambia il dottore perché la risposta non ti è piaciuta ne cerchi un altro che magari ti sappia dire qualcosa di diverso non mi sembra l'atteggiamento giusto detto questo andiamo a vedere come si è mosso a piazza affari i livelli e come muovono piazza affari ma come muovono il DAX come muovono insomma gli altri indici grafico Fuzzibib giornaliero chiusura 32.700 punti secchi più 1,07 per cui infiliamo la terza seduta dove si guadagna praticamente un punto percentuale alla volta abbiamo iniziato mercoledì con un più un per cento ieri abbiamo fatto più 1,06 oggi facciamo più 1,07 così di secco lasciandoci anche dei gap aperti e andiamo anche oltre quota 32.500 punti che era un target che vi avevo dato e ieri vi avevo detto attenzione non ci dobbiamo stupire se può esserci anche un ulteriore strappo verso l'alto ok così è stato tra l'altro si chiude trovando praticamente i massimi nell'asta di chiusura e anche questo è un fattore che mi dice che può essere anche che lunedì possiamo avere un ulteriore massimo vi piace quello che vi ho detto bene non vi piace fa lo stesso lo penso possiamo anche vedere i 32.800 punti lunedì per come la penso io dopodiché DAX 17.419 punti più 0,28% che potreste arrivare in area 17.400 ma anche 17.500 anche lui magari ci può arrivare tra lunedì e martedì l'ho detto e l'ho scritto anche questa mattina sul canale real time e se non siete abbonati al canale real time cosa che comunque vi consiglio di fare perché avete tutte le segnalazioni mie e di altri due Mac a mercato aperto con il timing giusto potete leggere a distanza di qualche ora sul canale free quello che era stato detto in anticipo per cui anche qui non ho paura di essere smentito perché queste cose le ho dette prima che accadessero in Europa comunque una seduta diciamo positiva con percentuali inferiori ma comunque positiva e Stati Uniti che sono ancora positivi anche oggi l'SP500 nuovo record storico così come il come il Dow Jones il Nasdaq 100 ha fatto una spike in questo momento sta facendo una spike con un nuovo massimo storico e il scusate il sì è il Nasdaq quello del grafico che state avvenendo in questo momento in questo momento è sopra quota 16.000 punti 16.040 e anche lui con questa spike poi vediamo come chiude segna un nuovo massimo storico per cui mercati ancora vogliamo definirli pompati mi sta bene questo termine ma comunque sia che non danno così il segnale che forse in tanti aspettano di debolezza torniamo ai livelli anzi prima vediamo cosa è successo a Piazza Affari sulle singole azioni queste le performance di Piazza Affari ordinate dalla performance migliore alla performance peggiore più 5.40 più 5.24 più 3.26 più 2.73 più 2.32 queste le performance ci sono ancora una volta tanti bancari a guidare insomma i rialzi e sul fondo troviamo Campari STM SNAM insomma ancora più o meno le utilities più arretrate più deboli in compagnia di singoli bancari tipo Finico poca roba insomma ora che abbiamo visto quali sono i maggiori rialzi ordiniamo questi titoli per capitalizzazione di mercato in ordine discendente quindi da chi capitalizza di più a chi capitalizza di meno ora guardate le prime 5 posizioni sono i titoli vi ricordo più capitalizzati Ferrari Stellantis Enel Intesa San Paolo Unicredit mi fermo qui ci sarebbe anche Enel ma prendiamo le prime 5 posizioni quando le mani forti vanno a far fare un più 1.53 a Ferrari più 1.57 a Enel più 0.42 scusate Stellantis più 0.42 a Enel più 1.47 a Intesa San Paolo più 1.81 a Unicredit il mercato Fuzzimib sale a noi non ce ne frega assolutamente nulla che Erg faccia meno 0.56 o che Saipem perde lo 0.32 o faccia addirittura il più 5% quando è l'ultimo titolo come capitalizzazione vanno a muovere le pedine giuste e ti portano l'indice dove cavolo vogliono loro ok questo deve essere abbastanza chiaro titoli più capitalizzati si agisce su questi per farli andare dove vogliono in questo caso vogliono farlo andare verso l'alto benissimo il mercato va verso l'alto non vanno a mettere denaro su Campari ad esempio o su un altro titolo che ne so Amplifon che muove capitalizza poco anche se Amplifon facesse più 10 chi se ne frega magari il Fuzzimib si muove di 0.00 ammesso che gli altri siano in verde questa è la prima osservazione seconda osservazione Fuzzimib grafico mensile per cui mi sembra di averlo già detto in un altro video ma oggi lo ripeto per la serie i mercati riconoscono i livelli noi siamo stati un decennio anzi di più dal 2009 al 2023 in un trading range di 10.000 punti lasciamo perdere le sbavature sotto quota 14.000 o appena sopra quota 24.000 ma ci siamo mossi tra i 14.000 punti e i 24.000 punti due livelli precisi di supporto granitico e di resistenza altrettanto granitica superato questo livello se ballano 10.000 punti superato questo livello se noi portiamo 10.000 punti di rialzo una volta scavallate queste resistenze fortissime e quindi aggiungiamo 10.000 punti a quota 24.000 punti dove arriviamo quindi quale sarebbe il target io penso per quest'anno almeno quota 34.000 punti secondo me siamo diretti questo poco ma è quello che penso ora torniamo sul grafico giornaliero si può scioltare da questi livelli c'è il segnale il segnale non c'è quello che dico io è che da questi livelli per come siamo saliti e per quello che è il target perché quota 34.000 punti adesso mancano 1300 punti ok è un target che praticamente si sta avvicinando e noi siamo solo al 23 di febbraio insomma se lo raggiunge subito così senza guardarsi indietro poi temo che ci aspettino mesi di discesa ma discesa con lo slittino perché se raggiungiamo subito quel livello lì che dovrebbe essere un livello di resistenza piuttosto tosto dopo insomma la strada a scendere è tanta senza una correzione intermedia quantomeno per cui ritengo più probabili non ho la certezza ritengo più probabili che da questi livelli o poco sopra il mercato possa così stabilizzarsi e poi vediamo in quanto tempo far partire quella che dovrebbe essere una correzione diciamo così auspicabile per poi però ritornare a quota 34.000 punti questo è il mio parere poi liberi di pensarlo diversamente ci mancherebbe però questo è come è quello che penso io a me piacerebbe se proprio dovessi dire la mia è che il mercato arrivato appunto magari 32.800 punti una manciata di punti in più da lì cominciasse lo storno cominciasse la correzione in modo da rendere la salita così più sostenibile mentalmente far partecipare più persone al mercato far mettere soldi in tasca a chi ci ha creduto dall'inizio insomma tante cose questo sarebbe la cosa ideale poi quello che farà io sinceramente non lo so e se c'è qualcuno che pensa di avere così la risposta in tasca a tutto va bene ascoltate chi ha la risposta in tasca a tutto questa è la mia personale idea la stessa cosa dicasi per il DAX che anche il DAX ha superato i nuovi massimi storici e tu hai voglia di dire la Germania in recessione possibilità di crisi nel settore bancario e problemi nel mercato immobiliare non ci sarebbero i presupposti il mercato ha fatto questo anche la Germania una volta che ha rotto i massimi storici doveva allungare doveva allungare e anche lei se vogliamo andare a vedere ormai è in procinto anche di una resistenza anche dinamica per cui dico ci sarebbe forse ancora lo spazio per qualche rialzo in più ma poi me lo aspetto diciamo un ritracciamento che non andrebbe intaccare il trend del DAX non andrebbe intaccarlo renderebbe diciamo la salita più sostenibile basta oggi mi sono dilungato anche oltre spero sinceramente di essere stato quantomeno di supporto a qualcuno domani comunque faccio la panoramica di tutti i titoli del Fuzzimib e magari qualcosa da dire ce l'ho ancora grazie e alla prossima grazie a tutti